Questa mattina, venerdì 30 giugno, al campeggio isolino la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera blu 2023 a Verbania. Il riconoscimento sulla qualità delle spiagge e dei loro servizi è assegnato dalla FI. La Fondazione Europea per l'Educazione Ambientale e per la prima volta è toccato a Verbania. Il sindaco Silvia Marchionini commenta. Un ulteriore significativo e grande risultato dell'impegno di questa amministrazione nell'ambito del rilancio del turismo. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.